ciao in questo video voglio insegnarti due esercizi efficaci per tonificare le labbra aumentarne volume e farle più turgide allora il primo esercizio è il seguente unisci i gomiti e adesso inserisci i pollici sotto il labbro superiore nelle linee naso labiali logicamente deve avere le mani pulite per fare questo esercizio e poi una volta inseriti i pollici nelle linee naso labiali aggancerai dall'esterno con gli indici in modo da tenere le labbra tra le dita e poi l'esercizio consiste in questo i pollici spingono verso l'esterno il labbro tirandolo anche leggermente in giù il labbro invece trattiene la pressione quindi con il labbro faremo così quindi una forza spinge in fuori l'altra forza invece spinge in dentro ok faremo questo esercizio tre volte e lo otterremo per 20 secondi iniziamo gomiti uniti questo esercizio non solo aumenterà il volume delle tue labbra ma è un ottimo esercizio per prevenire o stendere attenuare il codice a barre quale rughe sul labbro superiore e anche per attenuare le linee naso labiali che non siano così evidenti per riempirle ok il secondo esercizio invece è il seguente stringi unisci le labbra come per voler dire m m di mela e con le labbra unite inizia a sollevare sugli angolini della bocca cioè inizia a sorridere mantenendo sempre la bocca appiccicata le due labbra strette questo lo otterrai per 30 secondi e lo ripeterai tre volte così ok ripeto Metti questa sequenza dei due esercizi per tre volte e vedrai che i risultati saranno di giorno in giorno sempre più visibili. Ma anche se hai un appuntamento e vuoi avere delle labbra più voluminose, fa questa sequenza per tre volte mezz'ora prima di uscire e vedrai che i risultati saranno già visibili subito. Ciao!